Ben trovati, in questo Paese spesso succede che si tenti di rinviare elezioni e consultazioni già nelle amministrative o in altre politiche, nell'identificare delle date si andava a comprendere quale migliore potesse essere per portare più elettori o magari per indurre gli elettori, per esempio nei periodi pasquali, si è sempre cercato di non cerebrare le elezioni politiche o amministrative e andare subito dopo per non perdere il consenso o dei villeggianti o dei cattolici che potrebbero non essere indotte al voto perché presi i cattolici praticanti dalle festività religiose. Ora succede anche per il referendum, ma con una motivazione diversa. Potrebbe slittare la data, troppi ne stanno parlando, non ultimo il ministro dell'interno Alfano che è di un partito politico diverso da quello di Renzi, ma che con Renzi è nel governo, è un uomo che decide le date delle elezioni, di concerto con il Consiglio dei Ministri, ma che è più renziano forse dello stesso Premier, almeno ad ora. E se si dichiara possibilista significa che la volontà del Premier potrebbe essere questa. Certo passa sempre tutto dal Capo dello Stato che è l'unico eventualmente a poter decidere lo slittamento del 4 dicembre. Ma perché vogliono questo? Ufficialmente perché le popolazioni terremotate potrebbero non recarsi al voto o non essere messe nelle condizioni di esprimere il proprio parere verso il sì o verso il no. E sono le popolazioni che riguardano due regioni del centro, non lontane anche dalla parte politica dello stesso Primo Ministro italiano, sia le Marche e l'Umbria. Ma forse la verità è un'altra. Coloro che lottano, quindi il Primo Ministro, per il sì, vedendo i sondaggi che ancora darebbero in avanti il no, potrebbero pensare che lo slittamento significherà allungamento, così come sarebbe, della campagna elettorale e quindi macinare nuovi consensi. Dall'altra i referendari del no potrebbero invece voler chiudere la partita subito perché in vantaggio è per non dare altro tempo utile alla Premier Renzi. Cosa succederà? Ripeto, lo valuterà il Capo dello Stato, ma come vedete alla base ci sono sempre dei calcoli perché dal giorno dopo il risponso referendario tutto potrebbe cambiare o implodere la politica con la vittoria del no e quindi nuovi schieramenti, nuove aggregazioni, nuove coalizioni anche territoriale oppure con la vittoria del sì ci sarebbe quella legittimazione popolare nei riguardi del Primo Ministro e questo potrebbe anche pensare di andare subito ad elezioni politiche nel 2017 di concerto con quelle amministrative. A domani!